Il Vescovo, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non collerico, non dedito al vino, non violento, non abito di guadagni disonesti, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, fedele alla parola degna di fede che gli è stata insegnata, perché sia in grado di esortare con la sua santa dottrina e di confutare i suoi oppositori. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.